Musca cerca di respingere le accuse e torna a sostenere che le immagini su Bucia siano un falso. È una messa in scena fatta girare sui social network da Occidente e Ucraina, dice il ministro degli esteri Lavrov, citato dalle agenzie russe. L'Unione Europea prepara un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e di fronte alle nuove... Grazie a tutti! Grazie a tutti!